La decisione del TAR di Palermo che accorda la sospensiva al nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che lo scorso 30 marzo aveva nominato per la seconda volta i commissari per le Camere di Commercio di Catania e l'istituzione dell'ente camerale unico che comprende le province di Ragusa, Siracusa, Grigento, Caltanissetta e Trapani restituisce l'immagine di una vicenda che si potrebbe definire sempre più comica se non ci fossero di mezzo le legittime attese delle imprese locali che dalla Camera di Commercio attendono risposte soprattutto in un momento così complesso lo dice in una nota il Presidente della Confesercenti Sicilia Vittorio Messina è da lungo tempo ormai che il sistema camerale siciliano si trova in una posizione di stallo tra carte bollate, tattiche politiche, gestione di partecipazione aeroportuali e silenzi assordanti della Regione l'approssimarsi della campagna elettorale probabilmente renderà ancora più defilato il ruolo dell'esecutivo regionale e dell'assessore ma è opportuno ricordare che gli operatori economici che con grandi sacrifici cercano di resistere alle intemperie di una crisi che si alimenta di diversi fattori contingenti e strutturali meritano più attenzione e rispetto il Presidente della Regione e l'assessore Turano battano un colpo e dimostrino di tutelare gli interessi della Regione dice Confesercenti e nello stesso tempo si assumano la responsabilità di pronunciarsi in merito ad una visione che disegni un sistema camerale siciliano che corrisponda realmente alla vocazione e alla dislocazione delle varie aree territoriali